Ogni crisi richiede una nuova forma di solidarietà e questo appunto, questo patto ci parla in particolare della fraternità, ma è una fraternità che sicuramente ha radici nel passato, è un po' la promessa mancata della modernità, dice il Papa stesso, ma dall'altra parte è anche una fraternità differente, perché è dell'oggi. C'è un sociologo francese, Lancaillet, il quale dice che la fraternità è plurale, ecco non può essere una fraternità soltanto di una classe sociale, soltanto di una nazione, tra simili e neanche soltanto maschile, è una fraternità che è plurale perché, dice il patto, riconosce la specificità, la bellezza e l'unicità di ciascuno. E l'altra cosa molto forte che mi colpisce anche come sociologa è sicuramente il patto, diciamo, fa un atto molto significativo, che è rifiutare la neutralità, si mette dal punto di vista in particolare degli ultimi. Questo è un atto, diciamo, epistemico, perché guarda il mondo a partire dagli ultimi, non solo, ma è anche, diciamo, un elemento di azione, perché ci dice tutto, nella seconda parte parla appunto della tutela, la tutela dei minori, la tutela delle ragazze, delle donne, dei deboli, dei disabili, degli oppressi, dei detenuti.